Livia Sambrotta, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo. E benvenuta, benvenuta davvero Livia Sambrotta a raccontare questo romanzo intitolato Non salvarmi, pubblicato da Sam Liberi, la società editrice milanese. Leggo nel risvolto di copertina che Livia Sambrotta pubblica nel 2015 il romanzo Noir Amazing Grace, seguito poi due anni dopo da Tango Down, che è stato selezionato tra i finalisti al Festival Giallo e al Centro Rieti e ha ricevuto la menzione speciale al Festival di Garfagnana in Giallo. Attualmente lavora a Milano per la società internazionale UC Cinemas come coordinatore della promozione per il Sud dell'Europa. Ora Livia Sambrotta, fermiamoci proprio qui. Dall'aspetto cinematografico come professione, poi il cinema è certo, attraversa tutta quanta la nostra conversazione per questo romanzo. In che cosa consiste esattamente l'attività come coordinatore della promozione? Allora, io mi occupo proprio di lanciare i film, detto proprio in modo molto semplice e banale. Allora, mi occupo della cosiddetta film promotion, ovvero studio insieme ai distributori le campagne di lancio dei film, sia per quanto riguarda i film delle major, sia per quanto riguarda i film delle case più indipendenti. Quindi fortunatamente riesco a lavorare un po' a 360 gradi su tutto il prodotto cinematografico. E proprio negli ultimi anni ho lavorato nella scena internazionale europea, appunto del Sud dell'Europa, che prevede una regione che comprende l'Italia, la Spagna, il Portogallo e ultimamente si è aggiunta anche la Germania. Quindi questo mi ha dato ancora di più la possibilità di lavorare sul cinema da un punto di vista europeo, che quindi mi ha aiutata a fare delle campagne che fossero sempre più trasversali, sia adatte al pubblico italiano, ma poi con un occhio anche a tutta la regione europea. E questo sicuramente ha avuto una forte fascinazione su di me, perché per il mio lavoro fortunatamente devo vedere molti film a settimana, quindi già questo chiaramente mi ha sempre più definito uno sguardo sul mondo, proprio attraverso il cinema. E poi sicuramente mi ha dato la possibilità di essere a contatto con i grandi leader del mercato, quindi delle measure che ci presentano in anteprima quelli che saranno poi i futuri successi globali e quindi la possibilità di accedere anche a delle visioni dell'industria molto interessanti che guardano proprio anche al futuro del cinema. Se ho ben capito, Lidia Sambrotta guarda i film con molto anticipo rispetto a quello che noi poi li vediamo e come d'altra parte l'editor che legge un libro che poi verrà pubblicato magari mesi o l'anno dopo. Esattamente. Io ho avvertito fin da subito la grande potenza di queste scene, ed è stato veramente molto emozionante vedere delle clip in anticipo di quello che è poi diventato Bohemian Rhapsody, un film dal successo veramente mondiale. E quindi questo è il grande privilegio del mio lavoro, avere subito una sensazione a caldo su un prodotto che ancora non si sa cosa sarà e che poi però tu dalla tua emozione a caldo così già in una sala con poche persone se ti rapisce vuol dire che quel film funzionerà. E quindi quando poi effettivamente ha successo è un processo molto interessante. Qual è l'ultimo film, se si può raccontare, che hai lanciato? Allora, l'ultimo film, come sai purtroppo le sale cinematografiche sono chiuse da ottobre, e quindi l'ultimo film è stato proprio Tenet, di Christopher Nolan. Abbiamo fatto una campagna proprio europea, appunto, perché noi abbiamo la leadership a Londra, quindi facendo un'unica campagna internazionale in collaborazione con la Warner. E la cosa più bella è che come UCI siamo riusciti ad avere dei contenuti esclusivi di questo film. Insomma, come sappiamo Christopher Nolan è uno dei registri più apprezzati del mondo e noi abbiamo potuto lavorare su dei video, nelle clip che solo noi abbiamo avuto, sia quindi l'intervista al regista, al cast. E anche questo ti direi è per me molto entusiasmante perché, ecco, lavorare su dei prodotti di così alto livello, in modo esclusivo, insomma, a me genera sempre molta adrenalina e mi conferma sempre il mio grande amore per il cinema. Il grande amore per il cinema perché, diciamo, nel tempo libero Lidia Sambrotta non è che vada dal cinema, trova il tempo di scrivere un romanzo e che romanzo, che si sviluppa per circa quasi 400 pagine, è un romanzo molto filmico. Esattamente, proprio come diciamo prima, ho avuto questa fascinazione dall'industria cinematografica, ho quindi deciso di costruire un thriller che avesse proprio come sfondo il mondo del cinema di oggi, o il mondo di Hollywood, un mondo ancora molto potente, che però sta anche subendo una grande trasformazione, sta vivendo un grande cambiamento identitario, proprio perché ci sono dei mercati emergenti, che non sono più solo quelli americani, ma sono ad esempio quelli dell'Arabia Saudita o della Cina, che stanno proprio ridefinendo le regole anche della produzione hollywoodiana. Ad esempio la Cina, come sappiamo, per far entrare un film straniero, ha delle regole molto, diciamo, rigide sulla censura. E quindi Hollywood sta scendendo anche a patti con questi nuovi scenari. Io ho costruito questo thriller raccontando quindi questo mondo con i protagonisti della Hollywood e dell'industria di oggi, che si sviluppa tra il deserto dell'Arizona e Milano. E quindi vi starete chiedendo come mai l'Arizona con Milano cosa c'entra. In realtà la liaison è sempre il mondo del cinema, perché anche Milano negli ultimi anni, fino a prima del Covid ovviamente, era diventata nuovamente la città del cinema, così come era stato negli anni 70. Quindi recuperando questa sua tradizione specialmente legata al cinema di genere, Milano ha attirato negli ultimi anni molte produzioni, sia italiane che straniere. E quindi io racconto Milano nel mio libro proprio come un film, perché il mio protagonista che si trova a Milano e si trova a svolgere un'indagine, sta proprio girando un film. Quindi Milano è un set cinematografico che viene reso perfettamente anche dalla sua architettura verticale, il suo sguardo sull'Europa, perché come sappiamo Milano è l'unica città in Italia a poter essere considerata anche una città europea. Lidia Sambrotta, qui la storia filmica si fa molto complessa, perché scopriamo subito, siamo all'aeroporto di Phoenix in America e negli Stati Uniti, e questa ragazza italo-americana, una giovane ragazza, se non ricordo male, 23 anni, Diva Wood, ha il posto prenotato sull'aereo diretto in Italia, ma questo aereo non la porterà in Italia, perché succede qualche cosa, succede qualche cosa e qui comincia la fuga e qui cominciano i problemi, le investigazioni, incominciano i problemi straordinari per Diva Wood. Raccontiamo per suggestioni senza svelare più di tanto, perché a ogni pagina c'è qualche cosa che può darci il senso di questa storia, ma che cosa succede per Diva Wood? Sì, esattamente, allora Diva Wood è la mia protagonista e vittima del romanzo, una ragazza di 23 anni che è ospitata nel centro di riabilitazione dei ragazzi che hanno problemi di dipendenza, la Gatehouse di Wickenburg, ovvero si tratta di un ranch in mezzo al deserto che ospita ragazzi che arrivano tutti da Los Angeles e hanno tutte una caratteristica in comune, ovvero sono figli di star di Hollywood. Diva è una di loro e fugge da questo ranch perché ha una storia d'amore con un ragazzo che lo aspetta a Milano. Ma Diva viene ripresa l'ultima volta dalle telecamere dell'aeroporto con le gambe macchiate di sangue mentre va in bagno e scompare, quindi non salirà mai sul suario. E proprio il giorno dopo, nei pressi del ranch che lo ospitava, viene ritrovato il cadavere di una ragazza barbaramente uccisa, assicurata dall'acido. Quindi da qui inizia il mio thriller, un thriller che io ho costruito con grande tensione e un forte ritmo perché si sviluppa nel deserto, lo sceriffo Ferguson che è lo sceriffo di Wickenburg viene incaricato di seguire l'indagine e inizia la sua investigazione proprio da ranch, quindi scandagliando le vite dei protagonisti di questa comunità. Succedono molte cose perché è un romanzo corale e come dicevo prima poi la seconda parte invece del romanzo sarà ambientato a Milano perché David, il compagno di Deva che l'aspettava a Milano non si rassegna al suo omicidio e decide anche lui di iniziare a investigare. Quindi non voglio dire di più sulla trama, però quello che posso dire è che è un romanzo corale, ci sono diversi protagonisti in questa storia e questo regala a mio parere subito al romanzo un forte ritmo perché quando hai un omicidio e hai diversi personaggi che su quel fatto criminale hanno diversi punti di vista, diverse verità, delle diverse opinioni su cosa è successo, immediatamente si scatena un racconto prospettico, molto smosso e molto dinamico. Quindi ha una storia con molti personaggi dove però non c'è solamente l'azione e i colpi di scena, c'è anche, o perlomeno io ho cercato anche di regalare al lettore quello che può essere un'emozione anche sulla psicologia di ognuno di loro, perché comunque sono personaggi che appartengono al mondo del cinema, sono personaggi conturbanti, vivono di fortissimi conflitti e quindi noi piano piano entriamo anche nelle loro singole vite, oltre a seguire tutta la vicenda di Deva e del suo omicidio. Sette, i morsi che mi hanno divorata, contali con me, il primo per il tuo amore, l'ultimo per la mia morte. Se riuscirò a farlo sarò ancora viva, altrimenti resterai tu. La luce si ingrandisce nelle mie pupille, paralizzate ma ancora vigili, catturala per noi, sto morendo e tu urli, ma non serve a niente. Dirti addio non ti permetterà di dimenticare. Lidia Sambrotta, queste ultime parole, dirti addio non ti permetterà di dimenticare che io ho sottolineato, sono parole che mi hanno seguito in tutta quanta la lettura di questo romanzo, parole forti. Certo, sì, sì, è proprio così inizia il romanzo e come sempre l'overture di una storia deve sempre poi un po' racchiudere il senso di quella storia. Come dicevo, è una storia dai fortissimi conflitti umani, che a me forse è l'aspetto che più interessa personalizzare in un thriller, ovvero la psicologia dei protagonisti. E quindi qui si capisce subito il conflitto che ci può essere anche tra... Dentro una storia d'amore, ad esempio, c'è anche una storia d'amore in Non salvarmi. Però l'amore può essere molto pericoloso se ad esempio diventa un'ossessione, cioè se si tramuta dal suo aspetto originario, da un desiderio interno, da un desiderio puro, ha invece un'ossessione che di fatto sviluppa e proietta soltanto il nostro ego. Quindi tutti questi discorsi, argomenti e temi sono molto sviluppati nel romanzo, perché quello che mi interessava raccontare è anche, credo, un tema che coinvolge tutti noi, che è quello anche delle realizzazioni di se stessi in questo tipo di società dove viviamo, quindi una società molto narcisista e molto competitiva. Quindi cosa vuol dire realizzarci? Qual è la direzione giusta per, prima di tutto, non fare del male a noi stessi? Quindi anche capire quando un gesto d'amore è un gesto rivolto veramente verso gli altri o se in quel gesto stiamo inevitabilmente sempre proiettando noi stessi, quindi facendo qualcos'altro. Questi sono gli argomenti, diciamo, di non salvarmi, che io scavo, perché come sempre nella psicologia umana è come un iceberg per me. Possiamo vedere la punta fuori dall'acqua e capire determinate intenzioni, ma come sempre l'iceberg, poi la parte più grande è quella sotterranea, no? Quella che tiene in piedi tutto, diciamo, tutta la struttura. E quindi io cerco sempre di più di andare in profondità e arrivare proprio a quella parte oscura. Dall'iceberg invece andiamo all'immagine di copertina, un bidone vuoto, lasciato per terra, bucato dai proiettili. L'ho amata moltissimo, dal primo momento che l'ho vista è firmata da Giacomo Callo, uno degli art director più importanti italiani e voglio dire due cose innanzitutto, che è molto cinematografica e già questo rende giustizia al romanzo e a tutta la sua storia visiva. Poi secondo me è molto bella perché si discosta da alcuni stereotipi americani, perché anche se il mio romanzo è in parte ambientato in Arizona, io comunque non ho voluto fare un romanzo americano, perché la letteratura americana ha già i suoi maestri. Insomma, io volevo fare la mia storia personale, ovvero intendo il deserto proprio come un non-luogo, come un luogo dell'anima, un luogo universale. Quindi questo bidone, rivellato dai proiettili, secondo me apre delle domande, non dà delle risposte, apre semplicemente delle domande, perché potrebbe essere inteso come qualunque cosa, una caccia all'uomo, una fuga. E per me diventa la metafora perfetta del senso del mio romanzo, che è una storia di perdita, ma di resistenza insieme. Quindi questo bidone sia rugginito, è rivellato dai proiettili, però ancora lì. E quindi per me questo rende perfettamente il senso della mia storia. Quindi grazie a Sam a me e a Giacomo Callo per questo lavoro magnifico. A proposito di domande, Lidia Sambrotti, te ne faccio due in contemporanea. Sì. Domande che conosci molto bene. L'inizio del sogno o la fine dell'illusione? Esiste una differenza? Eh, questo, guarda, hai centrato proprio in queste, in queste breve frate, appunto, tutta la costruzione della mia storia. Allora, parlando di cinema, io costruisco dei personaggi che inseguono dei sogni, perché il cinema è la sublimazione dei nostri desideri. Quando noi vediamo un film sul grande schermo e ci ne innamoriamo, è perché in realtà sta realizzando un nostro desiderio interno, qualunque esso sia. Quindi i miei protagonisti inseguono i sogni, ma bisogna stare molto attenti, perché il sogno può trascinarci anche verso la sua direzione contraria, ovvero verso la deriva. Quando noi non siamo più capaci di distinguere il sogno dalla realtà, la finzione dalla verità, l'arte dai fatti veri, questo può accadere. Quindi questo senso del sogno che io cerco davvero di raccontare attraverso una storia molto filmica, perché appunto noi vediamo proprio questi desideri dei protagonisti concretizzati in delle immagini molto chiare, e poi l'arma a doppio taglio, perché poi la vita non è un film, per quanto noi vogliamo viverla come un film. E allora bisogna capire il nostro ruolo, cosa veramente reale e dove ci può portare, e cosa invece magari è stata solo un'illusione. E che cosa è stata solo un'illusione da una parola importante senza svelare più di tanto di questo romanzo di Livia Sambrotta, romanzo intitolato Non salvarmi, pubblicato dalla società editrice milanese Sam Libri. Ma prima di salutarci Livia Sambrotta, qual è invece il libro che fa compagnia in questi giorni? Allora, sto leggendo di Peter Cameron, scusa, adesso non mi ricordo il titolo, ma lo vado a vedere perché ce l'ho proprio qui sotto mano, che si chiama Peter Cameron cose che succedono la notte di Adelphi e lo consegno perché è un libro straordinario, molto sconvolgente, molto ossessivo, ma anche lirico a suo modo. Insomma, veramente un libro che sto amando moltissimo, con una storia molto particolare, ambientato nel freddo della Russia, in una quasi notte invernale, ma davvero complimenti all'autore perché è riuscito a creare una storia straordinaria. Ricordo anche un giorno questo dolore ti sarà utile di Peter Cameron e poi... Da qui è stato trappato anche un film tra l'altro, quindi rimaniamo sempre in tema. A proposito di film, ma non salvarmi, ovviamente, è chiaro che Livia Sambrotta quando ha scritto questo romanzo non faceva certo l'occhiolino alla produzione cinematografica, ma quanto desideri che diventi film? Tantissimo, qui anzi lancio l'appello a chi fosse interessato, registi, produttori a renderlo un film, una serie tv, insomma, per me sarebbe chiaramente il mio sogno vederlo sul grande schermo e chissà, mai dire mai. Mai dire mai, intanto noi diciamo grazie, grazie davvero Livia Sambrotta per il tempo che ci hai dedicato. Grazie per l'invito. A presto. Grazie per l'ospitalità e per l'invito. Un abbraccio. Ciao. Ciao.